Si svolgerà domani alle ore 11 presso il Palasele di Eboli la conferenza stampa di hashtag Palasele 2019. Oltre a tracciare il bilancio dell'ultimo esaltante anno di eventi e a presentare il programma dei prossimi show, il sindaco di Eboli Massimo Gariello e il promoter Alfonso Troiano di anni 60 produzioni illustreranno i vari interventi strutturali eseguiti negli ultimi anni grazie alla sempre più intensa e concreta sinergia di anni 60 produzioni con il comune di Eboli. Al fine di renderla sempre più performante e accattivante per artisti e spettatori con il risultato di avere reso il Palasele Tempio indoor della musica live in Campania etapa imprescindibile dei più attesi tour nazionali.